Salvini non avrà vinto le elezioni ma sempre si ragiona su come mandare gli italiani in pensione prima. Professoressa Fornero e Marianna Aprile. Guardi, perché noi su questo siamo allenati e quindi è una sorta di tradizione della politica economica italiana che non sapendo come attivare il lavoro, investire in modo da far sì che ci sia lavoro per tutti, preferisce la soluzione più facile perché mandare in pensione basta che ci sia una legge che dica si può andare in pensione. Io vorrei di fronte ai calcoli che avete fatto voi, che sono corretti, ci fossero anche i calcoli relativi ai giovani che lavorano in maniera discontinua, a tempo determinato e che non ce l'hanno un 1000 euro al mese in maniera costante. Dobbiamo, è brutto dirlo, ma dobbiamo renderci conto che c'è una perdita grave che oggi si distribuisce tra i lavoratori e tocca soprattutto i lavoratori precari. Quindi difendere una categoria vuol dire rendere la perdita degli altri ancora più grave.